Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. L'intervista di Alessandro Basciano a Verissimo ha sollevato molti interrogativi tra i telespettatori per via del suo aspetto. Il noto ex concorrente del Grande Fratello, ex compagno di Sofico Degoni, si è presentato allo studio di Silvia Tofanin con un gonfiore facciale che ha sollevato sospetti tra gli spettatori. Molti utenti hanno ipotizzato che si trattasse di un intervento di chirurgia estetica, ma a distanza di pochi giorni sono arrivati chiarimenti sul suo look. Scopriamo che cosa è successo. A rivelare i motivi dell'aspetto insolito di Basciano è stato un esperto di gossip che, attraverso alcune storie su Instagram, ha raccontato tutta la verità. In questa intervista è stato truccato in quanto era reduce dall'intervento al setto nasale per alcuni problemi di respirazione ha dichiarato. In base a tali dichiarazioni, quindi, l'ex Geffino non si sarebbe sottoposto a interventi di chirurgia estetica ma a un intervento necessario per migliorare la sua respirazione. Con queste parole, quindi, l'esperto di gossip ha smentito categoricamente i rumors, spiegando che il gonfiore sul volto dell'ex Geffino non era dovuto a un intervento estetico. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.